Musica Let's go bitches, ecco qui Power Personal Trainer Su quelle che sono le strategie, le tattiche, un pochino diciamo le spiegazioni su come funziona la modalità MLG In questo caso su Strike Zone voglio darvi una spiegazione di ciò che succede quando spawn in determinati punti Perché spawn in determinati punti e come farà capire dove sono gli avversari in base alla propria posizione di spawn Quindi un pochino, una piccola meccanica su dove si rinasce Ora come vedete i miei compagni stanno catturando B però noi abbiamo C Quindi io dovrei spawnare principalmente in C perché B ancora non l'abbiamo Infatti rinasco in C e dopo catturiamo B Il fatto di rinascere da solo in C significa che i nemici si stanno muovendo comunque nella zona tra B e C Infatti vedete prendo subito una persona di spalle e mi muovo al centro per cercare di ammazzare gli altri Infatti ecco qui due Lo spawn loro principale comunque rimane sempre quello di A Infatti come vedete tornando indietro ammazzo un nemico e continuo a controllare sempre la zona di A Ammazzandone un altro e così via e così via andando avanti Come fare a capire dove sono gli avversari? In poche parole dovete sempre focalizzare il vostro occhio sulla mappa Se i miei compagni sono tutti tra B e una piccola parte in C vuol dire che i nemici rinasceranno nella zona delle bancarelle di A o sotto davanti al pro shop Ora rinascendo qui dove vi ho fatto appena vedere in cucina i nemici vuol dire che stanno prendendo C Questo perché? Perché quando si rinasce in cucina i nemici si trovano nella zona di pro shop, ponte, nella zona quindi centrale Quando si ha C e B in questo caso Se no sarei rinato in B dove ci sono diciamo i seggiolini, non so come si può dire, i posti a sedere per mangiare O sarei rinato vicino la zona di carico, cioè una zona piccolina dove si entra da dietro in B da C Infatti dovete sempre focalizzare sul fatto che quando rinascete dovete capire dove sono gli avversari Io rinascendo in cucina subito sapevo che gli avversari ovviamente sarebbero stati tra C e la zona centrale Infatti come avete visto ne riesco ad ammazzare anche due Ora che abbiamo B A, le cose dovrebbero switchare in questo caso La zona di sponde nemici è sempre quella di statua perché è quella di C che avete visto dove sono rinato prima E quella di pro shop Come vedete ora però spostateci dal centro mappa i nemici sono tutti su B Quindi qui in questo caso è stato più un errore di chi giocava In questo caso vabbè è una partita di clan vs clan che doveva comunque controllare Ora come vedete i miei compagni sono tutti in C Quindi io capisco che gli avversari rinascono qua vicino a B E come vedete infatti ne rinascono due In questo caso non so per quale motivo i miei colpi non sono arrivati Però ugualmente sapevo che sarebbero venuti dalla porta frontale Perché come vedete i miei compagni essendo in C avevano bloccato la zona di loading Che è quella lì piccolina che vi dicevo prima E allo stesso tempo stavano catturando C Quindi la zona di spawn doveva cambiare quella degli avversari Ed era infatti quella di B Comunque anche qua vedete sono rinato vicino pro shop Fuori da pro shop Quindi in questo caso i nemici che hanno sempre A e B come nella situazione di prima Sono in questa zona qui In questo courtyard come si vuole chiamare E nella zona delle bancarelle centrali Controliamo se c'è qualcuno nell'angolo Sempre farlo perché in questo gioco la gente si campi in modi schifosi E via Spero che abbiate capito questa cosa Il fatto di rinascere in pro shop significa che c'è qualcuno al centro Quindi dovete subito uscire premando L'ho fatto pure prima ma sono morto comunque Come vedete i nemici stanno rinascendo in B Perché ci sta qualcuno che guarda la loading Io che guardo la zona di front door B Che è questa qui È uno spot molto nerd per ucciderli In questo caso abbiamo bloccato gli avversari Ma ho visto che gli avversari stavano andando verso C Quindi decido di tornare indietro Ma la cosa non è fattibile Ora vediamo subito dove spawno Spawno in C Cosa vuol dire se sono spawnato in C? Che i nemici stanno in A E infatti guardate A sta per essere catturata Dovete sempre far caso a queste cose Se avete C A vuol dire che rinascete vicino a entrambe Non potete rinascere in una sola Se rinascete in una sola Anche se loro non la stanno conquistando Vuol dire che c'è qualcuno vicino Vedete? A è ancora nostra la stiamo perdendo infatti Perché? Perché ci sono dei nemici in A Quindi ci bloccano lo spawno e ci fanno rinascere dietro la statua di C Questo non si sa che chi l'ha fatto Non ho una più pallida idea Comunque la partita è ancora un minuto Ci sono ancora altre cose a dire Sono rinascere in Pro Shop Cosa vuol dire questo? Che c'è qualcuno qui nel courtyard Infatti eccolo qua Ha preso uno Nesce fuori un altro Vi ha ammazzato E andiamo subito a prendere A Come vi ho detto Se rinascete in Pro Shop Molto probabilmente c'è qualcuno al centro mappa Nella zona del ponte Barra qui dove queste scale centrali Come vi ho già detto prima Quindi fateci sempre caso Qui il mio compagno non riesco a salvarlo Perché mi ero fermato un secondo per recuperare vita e ricaricare Ma non fa niente Prendiamo pure A Ora i nemici rinascono tutti nella zona di loading Cioè quella alla destra di sopra le scale di C vicino B Però se vedete in questo momento Ora facciamo due o tre kill C'è un mio compagno che entra proprio in quella zona E perché io entro in B? Perché vedo che il mio compagno entra in quella zona E so che entrando in quella zona Io bloccando la front door Faccio rinascere i nemici O in C o in A In questo caso ho visto anche che un compagno era rinato nella zona di loading Quindi ero sicuro che entrando in B Non mi sarebbero spawnati L'avrei potuta prendere tranquillamente Dovete sempre dare un occhio alla mappa Especialmente dove sono i vostri compagni Sono rinato in B I nemici sono come vi ho detto A centro mappa tra C ed A in questo caso Quindi mi appresto a difendere Perché non c'è nessuno E comunque la partita è finita Aro questo tizio che cercava di ammazzarmi in un head glitch E via Spero che avete capito un po' il sistema di spawn ragazzi Farò altri video pure su altre mappe ovviamente Il prossimo vorrei farlo sul cerchio di strugire Perché secondo me è molto interessante Perché in Italia si gioca solo quello Quindi magari può essere molto utile per voi Fatemi sapere un commento se vi è piaciuto questo video Bitches! E per il question and answer Vi dico lo farò lunedì o martedì Let's go bitches!